Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Cattafesta e Cima Scalcia. Io sono Alberto Rigoni e oggi parliamo di imputredimento del fettone o come noto almeno dalle mie parti marcimento del fettone. Il video è dedicato ai proprietari o comunque a chi ha la gestione quotidiana dei cavalli anche se in ultimo faremo vedere anche un trucchetto per i colleghi maniscalchi professionisti e si articola in due parti. La prima parte è una video lezione appunto, la seconda parte è un filmato in campo. Allora innanzitutto andiamo ad analizzare il fettone come struttura del piede. È una struttura importantissima, ha diverse funzioni su cui non ho la possibilità di dilungarmi in questo video. Quelle che la maggior parte dei ricercatori ritengono essere le due principali sono la percezione tattile del terreno, quindi il fettone o cuneocorneo è il polpastrello del piede e la seconda funzione principale è la termoregolazione. Quando è perfettamente sano come in questa immagine ha un aspetto coeso e compatto e una consistenza gommosa. Andiamo a distinguere in maniera più che altro didattica il marcimento del fettone in tre livelli di gravità, quindi un marcimento superficiale, un marcimento profondo, profondo e infetto, poi ho tirato una bella riga rossa al di sotto della quale c'è la pododermatite cronica ipertrofica comunemente chiamata anche cancro del fettone. Questa non è che sia il caso più grave di marcimento del fettone, assolutamente no, questa è una patologia a sé stante. Ne parlo perché spesso viene confusa con il marcimento del fettone e perché comunque dei fettoni costantemente per lungo periodo putridi e magari mal curati sono comunque un fattore di rischio in più per lo sviluppo della pododermatite cronica ipertrofica. Allora, primo caso, marcimento superficiale. Il fettone, a differenza di quello che abbiamo visto prima, non ha un aspetto coeso e compatto ma ha un aspetto scabroso, si suddivide spesso in foglie o tasche, spesso si nota una netta separazione, una soluzione di continuo tra la parte apicale del fettone e tutto il resto e incomincia ad approfondirsi una fessura a livello della lacuna centrale. Questa fessura è proprio il discrimine tra un marcimento superficiale e un marcimento profondo. Nel momento in cui, specillando o andando a infilare la punta del netta piedi all'interno di questa fessura, notiamo che questa si è andata ad approfondire all'interno del piede, a volte si arriva addirittura ai glomi, allora questo viene classificato come un marcimento profondo. Vediamo anche un'altra immagine dove proprio la profondità, diciamo, di questa lesione è ancora più accentuata. Vediamo che si vedono dei tessuti dall'aspetto, diciamo così, non bello esposti in questa zona. Comunque la struttura in sé è simile a una formazione, diciamo così, accessuale, a un aspetto putrido, spesso esce dalla sostanza, dello spurgo di stalla, della sporcizia che si è andata a accumulare lì all'interno. Da qui, ovviamente, da questa sporcizia che si accumula in questa fessura che si viene a creare, può partire un'infezione che a volte incomincia a risalire fino alla fossa del pastorale, addirittura, facendo crosticine e quindi quest'infezione da qui si sviluppa e in questo caso abbiamo un marcimento profondo e infetto. La pordodermatite cronica ipertrofica, come detto, vi faccio vedere un'immagine che cos'è, sostanzialmente è un'iperproduzione di materiale dermico da parte del cheratogeno del fettone, cioè della struttura che ha il compito di generare il corno che costituisce il fettone, questa struttura incomincia a iperprodurre questo materiale che è spesso non coeso, sanguinolento, di colore in genere chiaro, bianco, panna, che ha la tipica forma della testa di un cavolfiore. Vediamo che anche in questo caso si nota la soluzione di continuo tra l'apice del fettone e il resto, insomma, questa è la neoformazione, diciamo così, e niente, questo è un caso abbastanza rappresentativo, può avere diverse forme, ma comunque, insomma, quella più tipica è questa. Chi sono i soggetti coinvolti nella cura di questa patologia? Allora, il proprietario o delegato, quindi appunto chi ha la gestione quotidiana del cavallo, il maniscaico e il veterinario. Allora, nel caso della pododermatite cronica ipertrofica, questo è, diciamo, territorio di competenza esclusivo del medico veterinario. Nel caso di marcimento profondo infetto, sono coinvolti maniscalco e veterinario, in quanto il veterinario ovviamente cura l'aspetto dell'infezione, mentre invece il maniscalco spesso viene chiamato a eseguire, in collaborazione con il medico veterinario, un intervento che si chiama resezione del fettone, che è di fatto una pulizia del fettone fatta con i coltelli, molto più approfondita di quello che si fa normalmente, andando a cercare di esportare tutto il materiale deteriorato possibile o più possibile, e ovviamente in questi casi si può incorrere in un sanguinamento anche abbondante e di conseguenza la presenza del medico veterinario è necessaria perché il veterinario va a tamponare, va a medicare, va a eseguire il suo lavoro. Nel caso di una resezione del fettone ovviamente poi la gestione del piede nelle fasi successive è molto delicata perché il piede deve essere tenuto al pulito il più possibile, spesso bendato, quindi fasciato in varie maniere, in attesa e nella speranza che il tessuto che si rigeneri sia di consistenza e di aspetto migliore di quello che è stato asportato. Nei casi meno gravi, quindi marcimento superficiale o anche profondo, spesso l'intervento del proprietario e del maniscalco, il proprietario seguendo le indicazioni del maniscalco spesso è sufficiente, ma mai come nella cura di questa patologia il ruolo appunto del proprietario o di chi ha la gestione quotidiana del cavallo è fondamentale perché questi interventi di pulizia, di igiene, di medicazione del fettone, se non vengono eseguiti correttamente o se non vengono eseguiti proprio, possono vanificare anche il lavoro del miglior maniscalco e del miglior veterinario. Ovviamente gli interventi da fare li vedrete nella seconda parte del video, quella girata in campo. Dopo un po' di tempo che si eseguono questi interventi, queste medicazioni che faremo vedere successivamente, incomincia il processo di guarigione. La prima fase di guarigione è questa essiccazione, vedete se c'è del blu perché è stato trattato con dei disinfettanti, questo fettone, e quindi da quell'aspetto scabroso, purulento, con tessuti esposti, diciamo un aspetto umido, incomincia a essiccare, quindi anche grazie ai disinfettanti che vengono utilizzati, che funzionano anche da astringenti in questo caso, quindi il fettone, in particolare la lacuna centrale e questa famosa soluzione di continuo, incominciano ad avere un aspetto secco. Seconda fase del processo di guarigione, incomincia a crearsi una specie di pelle che in realtà è comunque tessuto corneo, che dall'interno cresce e va a chiudere la soluzione di continuo che si era fermata, facendo da tappo e impedendo alla sporcizia di penetrare all'interno, dando quindi il tempo all'interno, diciamo così, del fettone di generare nuova materia ungueale sana. Questa struttura col tempo, esattamente come una crosta, prima si forma, dopodiché tende a staccarsi, difatti vedete in questa inquadratura si vede proprio il pezzettino che incomincia a staccarsi, nel momento in cui la parte sottostante è completamente guarita, questa si stacca, viene via o viene tolta dal maniscalco e lascerà posto nuovamente a una lacuna centrale chiusa, quindi senza la possibilità di essere penetrata con uno specillo o con un netta piedi, come è normale nei fettoni sani. Ecco, questa è l'immagine di un fettone completamente guarito dopo essere stato marcio per parecchio tempo. Ora, un occhio esperto comunque vede i segni del passaggio di questa patologia, però diciamo che a questo stato, a questo stadio, il fettone può essere definito completamente guarito. Occhio alle recidive. Il marcimento del fettone tende tantissimo a ripresentarsi nei cavalli che sono predisposti e tende a rappresentarsi anche perché le condizioni in cui questa patologia si sviluppa possono essere ripetute. Le condizioni che predispongono questa patologia sono più che altro il contatto con lettiera, deiezioni, quindi sia in box sia in paddock. Di fatti questa patologia è definibile una tecnopatia perché è una patologia dovuta alle condizioni di stabilazione di questi animali. Anche il box più pulito del mondo non impedirà il contatto dei piedi dei nostri cavalli con le deiezioni. Quindi il rischio è sempre presente, c'è anche una predisposizione dell'animale a una certa patologia, di fatti a parità di condizioni di stabilazione, spesso soltanto alcuni animali presentano questo problema, quindi di sicuro c'è anche un aspetto che deriva dalla predisposizione dell'animale. L'umidità, diciamo che l'acqua di per sé, da sola, difficilmente è responsabile del marcimento del pettone, quindi spesso sono proprio le deiezioni e le urine che il contatto prolungato con deiezioni e urine è la causa principale della patologia. L'acqua inteso come acqua piovana o acqua di fiume no, tuttavia la presenza di acqua e di umidità in generale, avendo un effetto emolliente, tende a peggiorare la situazione qualora il problema sia manifesto. Allora vi ringrazio per l'attenzione, ho concluso questo piccolo preambolo diciamo così teorico e vi lascio alla seconda parte del video girata in campo. Grazie per l'attenzione. Allora prepariamo prima tutte le nostre cose, prima di andare sotto al cavallo a fare la medicazione, prepariamo tutto quello che occorre prima in modo da non perdere tempo dopo. Allora ci servono, queste sono compresse di garza sterili 10x10, ne teniamo una intera e cominciamo ad aprirla, dopodiché ne servirà un'altra che però andiamo a tagliarla e a suddividerla nei suoi strati. In questa maniera andiamo a tagliare su tutti e quattro i lati finché dividiamo i singoli vei della garza. Mi raccomando questa è garza quella tradizionale, quella fatta con i fili intrecciati. Non prendete le garze di tessuto non tessuto perché per fare questo lavoro non vanno bene, poi capirete perché. Dopodiché abbiamo degli spray che hanno funzione disinfettante e astringente e qualcosa tipo uno specillo o un cacciavite con la punta tagliata. Non deve essere, diciamo, deve essere a punta ma non deve ferire, deve essere leggermente con la punta arrotondata oppure va bene anche la punta del netta piedi. e va benissimo. Allora, lei è ambra. Mi raccomando per fare questi lavori è prudente avere almeno pantaloni di tela robusta, scarpe antinfortunistiche, guanti, meglio anche gli occhiali perché a volte ci sono degli schizzi di disinfettante, può schizzare negli occhi e quindi minimo della sicurezza per andare sotto al cavallo. Allora, incominciamo a chiedere l'arto al nostro cavallo, di norma appoggio una mano sulla spalla, scivolo giù, se è un cavallo ben educato la zampa si solleva, dopodiché faccio un passo lungo e infilo l'arto all'interno all'altezza delle mie ginocchia, in questo modo stringendo le ginocchia ho una presa piuttosto sicura dell'arto. A questo punto, come vi ho già fatto vedere nella prima parte del video, ecco il marcimento del fettone qua, se io vado a spingere con lo specillo a livello della lacuna centrale riesco a entrare, quindi il fettone è marcio. Prima cosa da fare, con la garza grossa andiamo a pulire questa zona. Con questo sistema, appunto, garza lunga, la vado ad attorcigliare leggermente su se stessa, dopodiché aiutandomi con il netto a piedi e lo specillo, la inserisco da una parte e la tiro fuori dalla parte opposta, curando che vada fino in fondo. Può essere che il cavallo abbia qualche fastidio, non amo andare su e giù con la garza. Si può fare, ma vado a riportare all'interno lo sporco, quindi preferisco uscire da dietro e andare in una direzione soltanto. Ecco, tutto questo sporco, anche se può sembrare poca roba in termini di quantità, è quello che poi, se resta qui all'interno, va a impedire la cicatrizzazione dei tessuti qui all'interno, quindi è importante toglierlo. I buchini, vi dicevo, perché la garza di filo e non quella di tessuto non tessuto, perché tutti questi buchini qua si comportano come un leggero abrasivo e quindi vanno a intrappolare lo sporco all'interno delle maglie della garza. Vedete? Allora, a questo punto metto un po' di disinfettante, sempre spray disinfettante e astringente. Dopodiché vado a prendere qualche foglio della garzina che ho tagliato prima, ma incominciamo con uno, e vado a inserirla all'interno della lacuna centrale. Se vedo che il cavallo ha dolore, ovviamente spingo meno all'interno, lo scopo non è quello di... è quello di creare un tappo all'ingresso di nuova sporcizia. Vado a inserirla tutta, lasciare la garzina che sporge troppo non è un errore, ma rischia di venire via prima. Quindi meglio di no. Sopra ancora un po' di disinfettante che va a imbibire la garzina. E abbiamo finito. Possiamo lasciare. Allora, nel momento in cui dobbiamo curare questo marcimento, questo trattamento andrebbe ripetuto almeno una volta al giorno. Se la garzina resta in posizione, anche il doppio, anche 48 ore. E comunque poi dopo 48 ore bisogna provvedere a ripulire, ridisinfettare e rimettere in posizione la garzina. Allora, vi ho fatto vedere un sistema per curare un fettone già marcio. Adesso andiamo a vedere come realizzare un prodotto che va bene per il mantenimento. Allora, utilizziamo del solfato di rame in polvere, che mi riferiscono che ultimamente è un po' difficile da trovare in commercio, comunque si trova ancora, in forma granulare o polverulenta. Quindi per fare queste cose, guanti, occhiali, mascherina FFP2, che ovviamente io non metto in questo momento per ragioni di video. e andiamo, tra virgolette, a cucinare questo prodotto. Allora, si conserva questo prodotto in un vasetto di vetro. Andiamo a fare due buchi sul coperchio, perché il verde rame è mescolato con l'aceto, stando lì fa gas. Quindi per evitare che esploda il vasetto con un chiodo, andiamo a fare due buchi sul coperchio. Dopodiché andiamo ad aggiungere una modesta quantità di solfato di rame in polvere. e quello per uso agricolo. Niente di particolare. Ok. Poi, aceto di vino bianco-rosso, quello di minor costo in qualsiasi supermercato. Andiamo ad aggiungerne un po' e possiamo mescolare direttamente con un pennello. Ora, il prodotto che deve finire sotto lo zoccolo del cavallo è il verde rame, non l'aceto. L'aceto si usa soltanto come diluente, perché essendo acido scioglie il solfato di rame in polvere. E questo prodotto ha la caratteristica di essere fortemente astringente, quindi secca molto i tessuti e va bene da applicare come mantenimento su un fettone sano che comunque rischia di marcire per via dell'iperidratazione e con l'applicazione di questo prodotto andiamo ad asciugarlo. Allora, in questo caso il lavoro è molto semplice. Questo fettone è, diciamo così, in corso di guarigione. La lacuna centrale non si approfondisce più di tanto all'interno. Di conseguenza il lavoro è molto semplice. Prendiamo il nostro preparato e insistendo ovviamente nei punti in cui serve andiamo a dare una bella pennellata. Evitiamo di andare a ridosso del glomio dove incomincia il pelo perché comunque questo prodotto è leggermente caustico quindi può irritare i tessuti solo dove serve. e possiamo lasciare. Fatto questo, il vasetto lo chiudiamo col tappo forato la volta successiva sarà asciugato leggermente andiamo ad aggiungere ancora un po' di verde rame e aggiungere ancora un pochino di aceto e si conserva tranquillamente nell'armadietto. Il pennello si lava sotto l'acqua del lavandino. Allora abbiamo visto un piede con fettone marcio trattato con la garzina un piede in corso di guarigione trattato col verde rame e questo è un fettone completamente guarito vedete che nel momento in cui schiaccio con lo specillo a livello della lacuna centrale non riesco più a penetrare all'interno. Bene, allora vi ho fatto vedere due possibilità a livello di prodotti per il trattamento ovviamente come detto nella prima parte il primo trattamento necessario è l'attenzione, la cura, la pulizia soprattutto da parte del proprietario o di chi gestisce il cavallo il prodotto magico non esiste io ho fatto vedere due soluzioni che aiutano ovviamente le possibilità sono infinite ci sono prodotti commerciali i disinfettanti vanno bene in generale perché i microrganismi sono appunto il principale responsabile del marcimento del fettone o comunque non aiutano quindi qualsiasi prodotto disinfettante può aiutare in questo caso quelli migliori sono quelli che hanno anche una funzione astringente quindi che disinfettano e contemporaneamente seccano perché abbiamo a che fare con tessuti che sono troppo umidi si sono iperidratati ci sono anche dei prodotti antibiotici che funzionano benissimo il problema è l'antibiotico resistenza di cui non ho il tempo di dilungarmi in questo video comunque la comunità scientifica in generale sta facendo uno sforzo enorme per ridurre al minimo l'utilizzo di antibiotici quindi i prodotti antibiotici in genere in spray o in pasta vanno benissimo per questo tipo di problema utilizzateli solo su prescrizione del vostro medico veterinario in genere vengono prescritti quando i trattamenti con altri prodotti diciamo così non antibiotici non è andato a buon fine quindi a questo punto di solito si sceglie quella via quella via lì è molto utilizzata la tintura di odio ora se vi è stata prescritta dal medico veterinario utilizzatela in dosi e modalità che vi sono state consigliate io in genere non la consiglio perché dà dei problemi di bruciore spesso che poi creano dei problemi al cavallo il cavallo non vuole più dare la zampa e cose di questo genere e soprattutto la tintura di odio rischia di colare dal fettone facendo il giro dello zoccolo cola in corona cola sui glomi dove spesso va a irritare i tessuti e fare delle crosticine delle irritazioni quindi in genere non consiglio di utilizzare la tintura di odio allora io ho concluso vi saluto vi ringrazio per l'attenzione in un successivo video Gian Maria Cattafesta vi illustrerà i prodotti commerciali che ci sono in alternativa insomma un'aggiunta a quello che ho fatto vedere in questo video che sono tutti prodotti di buona efficacia grazie